Vineto e Lucchese aprono il proprio campionato al Mariani Pavone. Cudini conferma il 3-4-3 visto in Coppa, naturalmente con protagonisti diversi. Shakir, Fabrizi e Del Sole vanno a formare il tridente d'attacco, mentre Amadio rimane il fulcro della mediana, Gorgone col 3-5-2. La prima emozione arriva al decimo ed è di marca abruzzese con l'asse del sole Fabrizi. Il piattone del 23 non impensierisce però Palmisani. I toscani si affacciano in avanti al 22esimo e sprecano una palla gol clamorosa. Nana vede l'inserimento di Quirini, ma il classe 2003 spreca tutto clamorosamente. Poco prima della mezz'ora prova ad accendersi del sole. Un rimpallo fa carambolare di nuovo il pallone sul destro del numero 27, ma stavolta Palmisani si supera. In ripartenza la Lucchese ci prova con Visconti, ma per Tonti c'è bisogno di altro per non abbrancare in presa a terra. Ad inizio ripresa nessun cambio, ma la Lucchese parte decisamente meglio guadagnando diversi metri di campo, mettendo sicuramente in apprezzione De Santis e compagni. Metri che diventano centimetri sul colpo di Reni di uno straordinario Tonti che sul tiro deviato di Tumbarello dimostra quanto è necessaria la presenza del classe 92 che riesce anche ad anticipare l'avversario pronto al tapin. Al sessantesimo, Del Sole decide di mettersi in proprio, ma il suo mancino, seppur velenoso, non mette in grossa difficoltà Palmisani. 15 minuti dopo, Fedato circunnavica a un Marafini disattento, ma il suo destro trova solo l'esterno della rete con disperazione annessa. Il Pineto resiste e stringe i denti, cercando di alleggerire la pressione e all'improvviso, su un'azione caparbia, sfiora il colpaccio. Schirone si prende il pallone e vede il traffico in area e allora decide di grossare. Bruzzaniti è bravo nel dribbling e nello stretto, ma sul più bello calcia troppo centralmente con Palmisani, comunque bravo, con riflesso a terra. La disperazione bianca-azzurra è palpabile. Si apre allora con un pari la nuova stagione del Pineto in campionato. Lo 0-0 contro la Lucchese di certo non può soddisfare completamente, ma alla fine, considerando il gran caldo e i lavori ancora in corso sotto l'aspetto atletico e tattico, il punticino è sempre ben accetto. Sicuramente è una prestazione diversa da quella che abbiamo fatto con il Perugia. Siamo riusciti ad avere qualche trama di gioco diversa, però devo dire che nel complesso ci aspettavamo, mi aspettavo qualcosa di più importante come prestazione. ci portiamo via questo risultato e poi alla fine contano anche gli episodi e quindi possiamo dire che forse l'episodio anche più importante l'abbiamo avuto anche noi per poterla poi sbloccare, nonostante prima avessimo subito qualcosa. però ci portiamo via il risultato, la voglia di andarla a vincere fino alla fine, ma anche di portare a casa un punto che alla fine è sempre un risultato positivo. vorrei vedere qualche atteggiamento diverso come determinazione. dobbiamo essere più reattivi in alcune situazioni, dobbiamo essere più padroni della situazione. in questo momento non ci sta riuscendo qualcosa e quindi dobbiamo andare alla ricerca di questo. Vorrei rivedere sicuramente quelle situazioni che abbiamo fatto vedere 15 giorni fa, quindi più tranquillità, più linearità nelle giocate. Però stasera, ripeto, increscendo abbiamo fatto vedere che la voglia di portare a casa il risultato, nonostante la partita poi fosse aperta in entrambe le situazioni, perché sia noi che la Lucchese non ci siamo tirati indietro nel volerla andarla a vincere, quindi è venuta fuori una partita aperta. Quando si affrontano due moduli speculari, come lo è stato col Perugia, come lo è stato con la Lucchese stasera, spesso e volentieri le partite vengono in questo ambito, quindi i duelli fanno spesso la differenza e le transizioni spesso incidono. Si può passare da un'occasione per poter far gol, come è capitato con noi col Perugia, da un'altra a subirlo e quindi in questo bisogna trovare quell'equilibrio.